Benvenuti nel mondo degli orologi Puljot. Puljot è un marchio di orologi russo con una lunga e interessante storia. Fondata nel 1930 come prima fabbrica di orologi di Mosca, Puljot inizialmente produceva orologi da tasca per il mercato interno. Nel corso degli anni, l'azienda si è evoluta nella produzione di orologi da polso, diventando un'azienda di successo in tutta l'Unione Sovietica. Il nome Puljot in russo significa «volare» o «volo», e questo nome è stato scelto per il marchio per rappresentare la passione per l'aviazione. Uno dei modelli più famosi di Puljot è lo Sturmanski, prodotto per la prima volta negli anni 40 per gli ufficiali dell'aviazione sovietica. Questo orologio è stato indossato dal cosmonauta Yuri Gagarin, durante il suo storico volo nello spazio nel 1961, diventando così il primo orologio a viaggiare nello spazio. Puljot è stata anche la prima azienda ad introdurre la tecnologia di cronometraggio al quarzo in Unione Sovietica, con il lancio del suo primo orologio al quarzo nel 1976. Nel corso degli anni, Puljot ha prodotto molti altri modelli di orologi da polso, tra cui orologi da pilota, orologi da sub, orologi sportivi e orologi eleganti. Oggi, Puljot è conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e la sua tradizione orologera russa, ed è una delle marche di orologi più apprezzate dai collezionisti. Il marchio è noto per i suoi orologi da aviatore, ma produce anche una vasta gamma di orologi sportivi ed eleganti. Uno dei tratti distintivi degli orologi Puljot è la qualità dei materiali utilizzati. Puljot utilizza solo i migliori materiali disponibili per creare i suoi orologi, garantendo che ogni prodotto sia resistente e duraturo. L'azienda si impegna a mantenere gli standard di qualità più elevati possibili, e questo si riflette nella qualità dei suoi prodotti. Inoltre, Puljot utilizza solo materiali di origine etica nella produzione dei suoi orologi. L'azienda si preoccupa della sostenibilità ambientale e si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale della produzione dei suoi orologi. Questo impegno per la sostenibilità è un ulteriore motivo per cui gli orologi Puljot sono così apprezzati dai collezionisti.